buona giornata amici da massimo foghetti iniziamo insieme questa mattina il mese di marzo oggi è il primo marzo del 2022 ovviamente e il sole sorge alle 6 e 46 e tramonterà alle 17 e 57 vedremo i giornali come parlano questa mattina del conflitto dell'Ucraina l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo perché ripercussioni ci sono anche a livello locale e intanto vediamo qual è il santo del giorno oggi si festeggia sant'albino di angers vescovo santo vissuto tra il quinto e il sesto secolo governò la diocesi di angers partecipò ai concili di orlean del 538 e del 541 organizzò soprattutto la chiesa in gaglia i miracoli che gli si attribuiscono fecero di lui uno dei santi più popolari del medioevo e soprattutto della Francia vediamo ora le condizioni del tempo ecco la grafica nella prima parte del giorno il tempo sarà instabile con fiocchi di neve fino a quote molto basse dal pomeriggio graduale migliorimento comunque continua a fare freddo le temperature uscillano dai 4 ai 6 gradi 6 gradi la massima vi ricordate i 14 15 16 dei giorni scorsi il vento spira da una direzione di nord nord est sulle coste e da nord nord ovest sull'interno apriamo dunque i giornali questa mattina a partire dal resto del carlino sulla cronaca di Fano e vediamo appunto come appare subito un appello sono diversi poi gli appelli che incontreremo sfogliando i giornali questa mattina per aiutare l'ucraina la popolazione ucraina che è ostacolata e soprattutto messa in grande difficoltà da quanto sta accadendo ecco il titolo portatici anche giubbotti antiproiettili è un sacerdote ucraino che sollecita la popolazione ad aiutare in modo particolare la popolazione del suo paese servono pure ricetrasmittenti elmetti e binocoli oltre a materiale sanitario la mia gente ha detto il sacerdote ha bisogno di tutto si tratta di don volodmir medvid responsabile della caritas ucraina in italia e capellano degli ucraini greco cattolici di Fano fa sapere che dall'ucraina sta ricevendo tante richieste di ogni tipo di materiale compreso quello per difendersi al meglio dagli invasori si tratta quindi di medicamenti per quanto riguarda le ferite che vengono causate dalle fucilate con cui è fatta oggetto la popolazione civile si cercano medicinali ed elementi di soccorso siringhe cotone emostatico cerotti magnesio sulfatico bende di varia misura bende occlusive disinfettanti antidolorifici acqua suigenata lacci emostatici insomma poi l'elenco continua con tutto quello che può servire per curare le ferite e vedremo poi che un'altra iniziativa di questo genere viene attuata dall'associazione il piccolo grande alessandro presieduta da giorgia marcelli che opera ovviamente come come capo infermiera nell'ospedale santa croce ma di sua iniziativa organizzato una raccolta di materiale sanitario da spedire in ucraina poi lo vedremo sul corriere adriatico dunque da sabato prossimo ci sono cambiamenti per quanto riguarda la riunione della comunità di quel paese nel nostro territorio quella ucraina è una comunità molto religiosa che sono praticano il rito cattolico sono cattolici di rito bizantino che per due anni hanno avuto come punto di riferimento la chiesa di santa maria del suffragio messo a disposizione appunto dalla confraternita da sabato prossimo però la messa settimanale si terrà nella chiesa di san giovanni busco con annessa una stanza per momenti di incontro della comunità dunque portateci tutto ciò che potete per aiutare la popolazione ucraina azetti piccoli comuni battono i pugni sul tavolo vogliono essere coinvolti ci sono diverse posizioni questa mattina sui giornali guidate soprattutto da due sindaci si tratta del sindaco barbieri di mondolfo e dal sindaco sorcinelli di san costanzo chiedono più coinvolgimento dei soci minoritari sulle scelte dell'aset ed una maggiore coesione per quanto riguarda le scelte per il futuro e la richiesta avanzata appunto dai sindaci del territorio nel momento in cui nel discorso si è approvato il bilancio preventivo delle 2022 e il piano degli investimenti triennale 22 24 io e colleghi di mondavio mondolfo santipolito e pergola fa sapere filippo sorcinelli che il sindaco di san costanzo abbiamo chiesto un urgente cambio di passo all'azienda e al sindaco massimo seri nel coinvolgimento dei soci minoritari che oggi è pari a zero ha detto papale papale appunto sorcinelli seriamo la pagina dell'arresto del carlino e vediamo che si parla della ferrovia fano urbino c'è una nuova presa di posizione del comitato che propone per la pista ciclabile il comitato pro ciclovia si chiede che fine abbia fatto il piano di fattibilità realizzato dalle ferrovie dello stato dal costo di un milione di euro risalente a tre anni fa dov'è il progetto per il treno comunque continua ancora questa diatriba tra chi è nostalgico dei binari e quelli invece che vorrebbero realizzare una pista ciclabile non dico al posto dei binari ma al lato della ferrovia circuito marconi ora è accessibile anche ai disabili l'assessore brunori annuncia la massima fruibilità è stato allargato anche il campo per il baseball l'impianto è già utilizzabile da persone con disabilità ha precisato l'assessore allo sport attraverso il cancello laterale posizionato a fianco del circolo tennis dalle 8 del mattino alle 20 sarà possibile rivolgersi al gestore del circolo tennis per ottenere le chiavi di accesso e poi abbiamo anche interventi per quanto riguarda nuovi punti luce è stato installato un nuovo punto luce anche nel parcheggio del circuito marconi a beneficio di chi lo utilizzerà un cineasta del nostro territorio nostro territorio è particolarmente prolifico di amanti del cinema dal punto di vista operativo non solo di coloro che frequentano le sale cinematografiche ma coloro che fanno il cinema ed uno di questi è Sorcinelli il giovane cineasta che è poi fratello del sindaco di San Costanzo da San Costanzo il giovane cineasta fratello del sindaco racconta la sua ascesa fino ad essere chiamato da Netflix il gigante delle fiction ebbene lui stesso collaborerà con Netflix per la fiction briganti un crime western in sei episodi che sarà disponibile sulla piattaforma streaming in abbonamento dal 2023 Sorcinelli 34 anni e già vincitore di un astro d'argento pensate protagonista alla mostra del cinema di Venezia con all'attivo un centinaio di importanti riconoscimenti grazie ai suoi cortometraggi di successo pergola vaccinazioni al distretto i medici di base accolgono le persone in via molino del signore cambia sede questo è un avvertimento importante per coloro che ne sono interessati cambia sede ma prosegue il suo prezioso servizio il punto vaccinale di prossimità di pergola gestito dai medici di medicina generale da sabato prossimo le attività di profilassi saranno effettuate non più all'interno dell'ospedale dove si facevano fino a poco tempo fa ma nella nuova sede del distretto sanitario in via molino del signore alle porte della città sul lato mare a urbino slow food date una mano per l'ucraina anche nella città ducale fermano fervono le iniziative l'associazione urbinate in collaborazione con il conad avviato una raccolta non solo generi alimentari serve anche altro e lo abbiamo visto prima quando c'è stato l'appello per avere soprattutto farmaci ed elementi di carattere sanitario si salverà la chiesina con gli affreschi del nelli una piccola chiesina ad urbino la vediamo qui questa piccola fotografia non so se è riuscita a vederli ma è un piccolo edificio un piccolo edificio importante perché conserva affreschi del 1400 del nelli e nelli ottaviano nelli è stato un artista importante ha lavorato un po in tutto il territorio abbiamo testimonianze anche nella chiesa di san domenico di fano per decenni questa chiesina è stata totalmente ignorata e pensate che ha cominciato a rivalutarla qualche anno fa è stato soprattutto l'assessore provinciale alla cultura alberto berardi quando alberto berardi ricopriva questo incarico è stato soprattutto lui a non vederla più finire in malora a vederla dimenticata è un piccolo gioiello da rivalutare poi se ne occupato anche vittorio sgarbi quando era agli esordi della sua carriera di critico d'arte ora si tratta della provincia che intende rivalutare il presidente paolini insomma si è attivato per conservare questo importante affresco attribuito ad ottaviano nelli ma nonna della misericordia risalente alla prima metà del 400 piccoli tesori diciamo diremo meglio piccoli grandi tesori che devono essere valorizzati sulla pagina di pesaro il resto del carlino apre con gli appelli a favore della ucraina anche scavolini deve restare in stand by purtroppo perché poi tutte le misure punitive nei confronti della russia si ripercuotono anche col nostro territorio con la nostra attività produttiva il patron la grande azienda di monte labate sbigottito davanti al conflitto penso ha dichiarato a quella povera gente speriamo finisca tutto questo e poi c'è anche l'aspetto economico e non a parte quello sociale ovviamente in un mercato dice scavolini che per noi era ed è importante perché prima della crisi abbiamo anche superato i 10 milioni di euro di fatturato è importante che l'evoluzione della guerra sia positiva e si possa porre un freno al più presto alle sanzioni che vengono praticate nei confronti della russia paghi uno ma doni due le farmacie per l'ucraina per ogni prodotto acquistato dai pesaresi le farmacie comunali e daranno un altro in più l'esercizio infatti ne regala uno uguale a favore della popolazione martoriata il materiale verrà poi consegnato a destinazione si tratta di un'iniziativa che inizia da oggi fino a martedì prossimo 8 marzo in tutte le farmacie comunali di pesaro e di gabice mare e gli ambulanti si mobilitano portatici qui gli indumenti tamborini il portavoce li daremo ai profughi appena arriveranno nel nostro territorio si tratta di pacchi viveri anche da parte della Gulliver la presenza di tante persone che operano lavorano nel nostro territorio come le badanti ha mosso il cuore delle associazioni che ora ci chiedono di agire hanno detto appunto gli operatori ed ora parliamo di sanità quarta dose ai fragili è debutto del Novavax oggi a muraglia primo giorno del booster per i soggetti con risposta immunitaria compromessa e al Codma di Fano inizia il vaccino proteico primo giorno dunque per la somministrazione del Novavax il vaccino proteico meglio accettato da alcuni Novavax e così affermano i giornali nella nostra area vasta iniziano il centro vaccinale situato al Codma di Fano con orario dalle 8 alle 13 i prenotati per la giornata di oggi sono tra 25 e 30 persone primo giorno di Novavax anche per Urbino con lo stesso orario del Codma mentre il debutto di questo farmalo all'ex Ristò di Pesora verrà domani dalle 8 e 30 alle 13 ed ora diamo un'occhiata anche alla cronaca arriva da Milano va in hotel si droga e muore è accaduto ad un ragazzo di 32 anni milanese apparentemente in viaggio di lavoro entrato nella sua stanza d'albergo si è iniettato l'eroina ed è stato stroncato da una overdose il corpo è stato ritrovato ieri mattina dalla donna delle polizie era atteso dalla fidanzata il magistrato ha disposto l'autopsia rivenuta a terra la siringa e quindi non dovrebbero esserci dubbi sulla causa della morte ancora per la cronaca un detenuto di Villa Fastigi scatena il finimondo voleva lavorare ma non poteva e reagisce nei confronti degli agenti scagliando loro contro una maglia infuocata e ha tentato di colpirli con una penna ovviamente è stato poi ridotto alla ragione offese Ricci sulla pandemia finisce a processo avvenne su Facebook nei primi mesi del 2020 ieri sono sfilati i testimoni dell'accusa chiudiamo il resto del Carlino ed apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo che l'apertura è dedicata ad un articolo un argomento di urbanistica condomi, condomini al posto delle villette la variante non ferma il trend per il collegio geometri e 5 stelle i limiti dei 54 metri quadri non è sufficiente ci sono osservazioni che vengono fatte a questa delibera importante per la città di Fano in quanto arresta la proliferazione di piccoli appartamenti quelli che vengono costruiti quando le villette unifamiliari o bifamiliari vengono abbattuti e si costruiscono al loro posto molti appartamenti alcuni molto molto piccoli il che vuol dire che aumentano i parcheggi c'è più carenza di servizi nei quartieri e ne risente un po' tutta la comunità l'amministrazione comunale cosa ha fatto? allora ha posto un limite dice che degli appartamenti inferiori ai 54 metri quadri in una ristrutturazione di un edificio cioè di una ricostruzione dell'edificio diciamo meglio se ne possono costruire soltanto il 20% e non più dunque una proliferazione di mini appartamenti che poi creano più problemi che vantaggi comunque ci sono ovviamente delle osservazioni sono intervenuti gli architetti Roberti e Fiocco sono intervenuti i Cinque Stelle è intervenuta la provincia ha dato il suo parere insomma c'è stata una risposta come contradduzioni alle osservazioni e quindi la variante è stata approvata e quindi diventa esecutiva Sassonia e Ponte Sasso manutenzioni al palo Giuliani della Confartigianato dice occorre progettare le opere per la difesa del litorale è un'urgenza si tratta di un'urgenza di un appello che fa la Confartigianato perché si realizzi subito il secondo stralcio dei lavori a Torrette a Ponte Sasso si tratta di manutenzioni di importo per altro contenuto per il completamento delle due scogliere a Sassonia per il momento però questo ancora non è stato fatto ecco perché l'appello, lo stimolo che la Confartigianato fa nei confronti dell'amministrazione comunale e se anche la guerra in furia i giornali parlano di Carnevale oggi è l'ultimo giorno di Carnevale ci saranno altre manifestazioni in piazza a Fano dove il Carnevale più che una festa è una tradizione è un evento culturale e quindi va preservato ieri si è tenuto un consiglio comunale sui generis nel foyer del Teatro della Fortuna abbiamo dei sindaci e degli assessori un po' particolari li vedete qui se riuscite a vederli in questa fotografia abbiamo il sindaco del Carnevale nelle improbabili vesti di una cupida ovvero di un amorino donna abbiamo poi degli assessori che non sono altro che gli attori molto simpatici ovviamente molto così caratteristici del San Costanzo Show che hanno tenuto un consiglio comunale sui generis così divertente però la città ieri con il freddo che faceva si stava svuotando speriamo che questo non avvenga oggi pomeriggio quando si chiudono tutte le iniziative di Carnevale con il rogo del pupo che cancella un po' tutte le trasgressioni poche a dir la verità che i cittadini hanno commesso quest'anno in occasione delle Carnevale qui abbiamo l'articolo dell'assessore allo sport Barbara Brunori in merito agli interventi che sono stati fatti sulla Dini Salvalai dove è stato sanato il tetto vi ricordate che nei mesi scorsi una partita ha dovuto essere sospesa anzi non organizzata perché ci pieveva dentro nel pavimento era pieno d'acqua così come era accaduto nella palestra Biagioni di Cucurano in precedenza ebbene questa volta non dovrebbe più accadere una cosa e ci sono anche interventi nella piscina non nella piscina Rossi ma nella piscina Ricci di Sassonia operazione contatori arrivano i nuovi smart meter ci sarà una telelottura per quanto riguarda i contatori del centro storico di Fano verrà la ditta quindi la ditta sarà messa in condizioni direttamente di conoscere i dati dei consumi senza che gli stessi utenti li comunicano per via telefonica o per via web statuto comunale a Fossombrone la maggioranza via alla revisione il problema è stato sollevato dall'ex assessore May sul funzionamento delle istituzioni e quindi si cambia e qui vediamo a fondo pagina quell'articolo che vi avevo preannunciato per quanto riguarda l'iniziativa dell'associazione il piccolo grande Alessandro ed è Giorgia Marcelli che ha attivato una raccolta di aiuti di farmaci per curare le ferite in favore della Ucraina a frontone caduti ancora 15 centimetri di neve gli impianti di sci restano chiusi vento troppo forte e pericolosi cumuli si spera nell'appuntamento della notturna di giovedì il freddo fa anche questi scherzi e vediamo sulla pagina di Senigallia dove si parla dell'exital cementi è una questione di parcheggi dove grava l'incognita ticket il costo del parco infatti può aumentare quest'anno ancora utilizzabile questa area sosta che vediamo nella fotografia Ciconi Massi della Confartigianato dice speriamo non si vada troppo oltre i 3 euro al giorno quel parcheggio per le attività è vitale ha detto il rappresentante di categoria quest'anno per fortuna potrà essere ancora utilizzato ma siamo consapevoli che già dal prossimo anno se partiranno i lavori non sarà più nella disponibilità degli automobilisti ancora sulla pagina di Senigallia vediamo che è stata commissariata la fondazione in rosso si tratta della fondazione città di Senigallia alla guida resta l'avvocato Cannafoglia il presidente di missionario nominato con una delibera da Acquaroli sulla pagina di Pesaro vediamo che il Corriere Adriatico si occupa ugualmente di parcheggi i pendolari fuori dal parche lo sfratto non sarà in dolore si recinta infatti l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi porta a Capucina i privati invitano il comune a collaborare intanto Adriabus ripristina il servizio importante il servizio navetta in via dell'acquedotto un servizio importante anche per per chi parcheggia la macchina deve poi arrivare all'ospedale senza fare quel lungo tratto a piedi che lo separa appunto dal San Salvatore vediamo le fasi di questo intervento la società porta a Capucina in liquidazione aveva concesso in comodato gratuito l'uso dell'area di cui è proprietaria al comune l'area è di fatto diventata poi un parcheggio molto importante appunto per la posizione della stessa il comune e la società sono andati in causa però e la società ha chiesto un milione di danni successivamente il comune e la SRL si sono accordati per poco più di mezzo milione il comune così ha acquisito l'area ma la determina è stata revocata e il contenzioso è andato avanti giovedì prossimo Porta Capucina riprenderà possesso dell'area impedendo l'accesso ai mezzi quindi un contenzioso che non è finito molto bene a quanto pare invece Villa Marina darà spazio nel parcheggio anche a bici e scooter è stata presentata la riqualificazione Gambini del Partito Democratico e dice mettiamo il ticket ed è una proposta appunto del consigliere comunale per poter terminare il vecchio palace altri due milioni e mezzo un lavoro infinito quello per la ristrutturazione di questo grande edificio che dovrebbe ospitare le manifestazioni del ROF i finanziamenti aggiuntivi previsti nel bilancio di previsione del 2022 del Comune di Pesaro l'amministrazione ribadisce la fine dell'intervento sarà entro l'anno e poi qui si parla della scuola Dante Alighieri la scuola di Soria troppi ritardi c'è bisogno della sferzata nella fase dell'esecuzione dei lavori il Comune affiancherà due progettisti esterni si dettano dunque i tempi ci vorranno 75 giorni per il piano dell'intervento 680 la durata del contiere quasi due anni di lavori vediamo qui ancora appelli per l'Ucraina il Comune apre linea per coordinare il flusso degli aiuti e poi qui l'articolo di cronaca dell'uomo il 32enne che è stato vittima di un'overdose in un hotel della città il conservatorio si apre alla città e coinvolge studenti e professori è stato inaugurato l'anno accademico da giovedì torna la rassegna dedicata ai concerti chiudiamo ora i giornali diamo un'occhiata anche alle pagine dello sport sul resto del carlino la visse tira un buon vento dopo la vittoria sull'entella che ha dato ancora entusiasmo e spirito ai biancorossi e si tratta di affrontare nuove sfide un successo in rimonta come è accaduto altre due volte in stagione e il tutto con l'apporto decisivo della panchina alle spalle un terribile febbraio insomma ci sono state anche dei default delle sconfitte forse anche immeritate mentre per quanto riguarda il fano calcio si si leca un po' le ferite fano imprevedibile ma c'è tempo per rimediare l'ultimo autobus per tornare a sperare a sperare almeno per restare in serie D è quello del doppio incontro casalingo il recupero contro il caselnuovo Vomano e il derby con la Samb due partite decisive per la salvezza dei Granata vediamo anche che cosa dice il Corriere Adriatico sulle pagine dello Sport vediamo che si parla della Vissi in evoluzione ora c'è continuità oltre al carattere la squadra di Banchini è riuscita a imporre e il suo gioco anche a Lentella per quanto riguarda invece la Alma la squadra fanese al Fano manca solo l'appello speriamo che sia così insomma perché sembra che manchi qualcos'altro la sconfitta di Piedimonte Matese sembra già una sentenza salvezza diretta a meno nove play out quasi inevitabili per i Granata ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani noi ci risentiamo domani ma per le notizie del giorno vi invito a dare a vedere l'occhio alla notizia delle 20 e 30 di questa sera buona giornata a risentirci grazie a tutti